Il fatto che adesso il PD abbia un leader cattocomunista è qualcosa di imprevisto, francamente, che ancora non ho ben chiaro a quali principi, a quali tradizioni si riferisca. Secca la replica di Franceschini. È un'offesa che veniva utilizzata nei confronti dei cattolici progressisti fin da prima che io nascessi. E vorrei che il consulente di storia del movimento cattolico di Berlusconi gli spiegasse che tecnicamente lui è un clerico fascista.